Oggi parliamo di strade routine, in modo particolare ti sei accorto o accorta che qualcosa non funziona. Cos'è che non va? Perché non funziona nel modo corretto come vorresti? Oggi approfondiamo questo argomento, ma prima di farlo ti rubo un attimo per ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione. Richiederlo è facilissimo, ti basta inserire il tuo nome e la tua mail, proprio perché nella mail riceverai tutti i contenuti del corso, e sono contenuti scaricabili, spiegazioni pratiche, teoriche, tanto 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 altro. Quindi sicuramente ti puoi aiutare, è gratuito, non hai nulla da perdere, quindi ti invito a provarlo. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi ti faccio capire nella tua strade routine cos'è che non va e soprattutto come aggiustarlo. Quindi parliamo di study routine e di come capire perché non sta funzionando nel tuo caso. Mi sono accorto, seguendo tanti studenti e tante studentesse, che c'è un problema che accomuna appunto la study routine di quasi tutti questi. Infatti il problema più comune è una mancanza o comunque una scarsità, quindi poco equilibrio tra studio e pause. È importante fare delle pause perché è fondamentale partire dallo sforzo che abbiamo fatto durante i minuti che dedichiamo allo studio. E questa pausa non devi intenderla come un modo per procrastinare o per aspettare che si faccia l'ora e poterti alzare dalla scrivania e andare a fare altro. La pausa è fondamentale per consolidare ciò che hai fatto durante lo studio e per recuperare quelle energie, soprattutto mentali, quindi in termini di attenzione e concentrazione, per poi arrivare a preparare anche la restante parte di materiale, quindi di studiare nel modo corretto e qualitativamente bene e la restante parte del materiale con un altro ciclo di studio pausa. Ma facciamo un esempio pratico per non lasciarti solo a livello teorico. La regola che devi seguire è questa. Io ti propongo questa organizzata in cicli di mezz'ora. Tu puoi tranquillamente aggiustarla, quindi puoi per esempio scegliere di studiare per 15 minuti e poi fare solo 5 minuti di pausa o comunque andare ad aggiustare un po' il tempo che dedichi allo studio in funzione del tuo caso nello specifico. Io ti faccio questo esempio. Con cicli di mezz'ora, quindi ogni 20 minuti di studio, studio serio, quindi non con lo smartphone accanto ma proprio concentrati su ciò che dobbiamo fare per studiare e cosa dobbiamo fare dipende dalla singola fase di studio, quindi non scendo in dettaglio su questo. Ci sono tantissimi altri video dedicati a questo argomento, se ti può interessare. Ogni 20 minuti di studio 10 devono essere fatti di pausa. Faccio un piccolo disclaimer. Non ti parlerò di ore di studio perché in un certo senso non abbiamo sempre a disposizione 60 minuti esatti per studiare. Talvolta abbiamo un'ora e mezza di studio a disposizione, talvolta abbiamo solo mezz'ora, certe volte 40 minuti, quindi non possiamo sempre dedicarci ad un'organizzazione a 60 minuti alla volta. Quindi come possiamo gestire quel tempo di studio che abbiamo a disposizione? Ecco perché ho scelto 30 minuti come riferimento. Quindi iniziamo con i primi 20 minuti di studio. Siediti nella scrivania, inizia a studiare. Questa prima parte, questo primo gruppo di 20 minuti potrebbe essere anche dedicato ad un ripasso, ad esempio. In ogni caso è studio attivo, quindi fai proprio qualcosa per studiare, applichi tecniche e strategie di apprendimento che conosci e quindi studi attivamente. Finiti questi 20 minuti, devi dedicare 10 minuti del tuo tempo appunto a fare una pausa. Il perché te l'ho accenato prima, te lo ripeto, tanto per ricollegarci a quello che abbiamo visto insieme poco fa. La pausa è fondamentale per consolidare ciò che hai fatto nei 20 minuti precedenti e per prepararti in termini di risorse mentali, quindi attenzione, di conseguenza concentrazione e poi a lungo termine anche per garantirti quella qualità nell'apprendimento che ti serve. Quindi studi 20 minuti, consolidi ciò che hai studiato con 10 minuti di pausa e questi 10 minuti di pausa ti preparano per altri 20 minuti di studio. Questo seguendo quello che ti ho detto prima. Cioè io sto impostando questi cicli di 20 minuti di studio e 10 minuti di pausa. Tu puoi tranquillamente organizzarli in modo diverso, quindi 15 e 5 o 20 e 5 o 25 e 10, come preferisci tu. Continuiamo con l'esempio, tanto per mantenere i numeri semplici, ma hai capito che c'è un'enorme margine di personalizzazione e flessibilità nella strategia che ti propongo. Quindi altri 20 minuti di studio, cosa fai? Quello che preferisci, quindi per esempio se nei primi 20 minuti hai fatto un ripasso, adesso ti dedichi a nuove informazioni. Sei nella fase di studio in cui devi ripetere le informazioni, quindi per 20 minuti, faccio questo un esempio, ripeti le informazioni. Finiti questi 20 minuti, ovviamente non me l'hai capito, arriveranno altri 10 minuti di pausa che consolidano quello che hai fatto finora e ti preparano mentalmente per quello che verrà dopo. Cosa verrà dopo? Seguendo questo esempio, altri 20 minuti di studio, quindi non mi ripeto, hai capito benissimo cosa devi fare, e poi 10 minuti di pausa. Questo è, come vedi, una serie, un'alternanza tra studio e pausa per un totale di uno sforzo, per così dire, di un'ora e mezza. Come ti dicevo all'inizio, non mi sono voluto concentrare esclusivamente solo su 60 minuti, gruppi di 60 minuti, perché il tempo che possiamo dedicare allo studio cambia di volta in volta. Puoi, ovviamente, questo continuare a ripeterlo, o fermarti qui, oppure fare prima un ciclo di mezz'ora, perché magari al mattino puoi dedicare solo mezz'ora allo studio, il pomeriggio sei più libero o più libera, e quindi puoi dedicare un'ora di studio. E allora ripeti altri due cicli, o anche di più, aggiungi altri cicli. Come vedi, è fondamentale nella routine quotidiana avere una regola. Questa è la regola di base. Applicarla in modo regolare, applicarla con le giuste accortezze e giusti anche aggiustamenti, scusami la ripetizione, in base al tuo caso, o in base alla materia in particolare che stai studiando, ma questa regola ti dà quel punto di riferimento che non ti fa sbagliare assolutamente, ti garantisce la qualità nello studio, non solo all'inizio della sessione di studio giornaliera, ma anche e soprattutto via via fino alla fine. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi. Se hai dubbi, domande, bisogni di chiarimenti, sai che puoi contattarmi e sono felice di poterti aiutare. Ti ricordo che attraverso il link che trovi in descrizione puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari. È gratuito e sicuramente ti puoi dare una mano, quindi non è nulla da perdere. Ti invito a provarlo. Nel frattempo io ne approfitto come sempre per ringraziarti del tempo e della tua attenzione, di quello che mi dedichi, e ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani. Grazie. 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 Grazie.